appassionati di calcio buongiorno da carlo onesti ebbene che cosa è successo è successo che intanto il guardiolismo non è più un'espressione univoca cioè non si intende più un solo modo di giocare a calcio il guardiola del barcellona predicava il tiki taka ad oltranza poi negli anni si è evoluto con l'esperienza che ha avuto in altre squadre ed ora non disdegna un possesso palla con veloci verticalizzazioni come ha dimostrato il manchester city indubbiamente il manchester city è stato molto sfortunato questo senz'altro credo che la svolta della partita e lì c'è di mezzo veramente il destino è quella respinta di mendy su un gol praticamente fatto che avrebbe consegnato alla finale in manchester city invece questo è avvenuto proprio alla vigilia del grande finale con rodrigo del real madrid che ha portato le squadre fino ai tempi supplementari sconfitta sì sconfitta naturalmente limitata a questa partita a questa stagione di fronte a una formazione che oltre ai valori tecnici ha fermato l'importanza assolutamente fondamentale nella champions league della determinazione del crederci fino in fondo perché la champions league è la manifestazione nella quale vinci e perdi in un attimo nel senso che può cambiare tutto davvero da un secondo all'altro e real madrid l'ha fatto più volte in questa edizione quindi ancelotti merita veramente il premio della costanza e della grinta beh in italia c'era un grande tecnico al quale da calciatore dobbiamo un olimpiade quella del 1936 e cioè annibale frossi che diceva che la partita perfetta era quella che finiva a zero a zero perché nessuno aveva commesso degli errori in particolare non avevano mai sbagliato le difese contro i rispettivi attacchi era un periodo in cui certe cose si potevano dire ottenendo dei consensi perché era l'epoca in cui vinceva anche in europa il calcio all'italiana io sinceramente pur essendo fondamentalmente un tradizionalista o meglio portato a pensare che ad arrivare alla vittoria si possa attraverso strade diverse e non per forza attraverso una strada dico che mi auguro di vedere tante partite come questa come quella fra real madrid e manchester city sia all'andata che al ritorno perché abbiamo visto magari la casualità di qualche errore ma soprattutto le grandi giocate di grandi giocatori e di grandi squadre quindi questo è davvero ad alta intensità il calcio spettacolo al quale deve tentare di ispirarsi per accorciare le distanze dalle grandi d'europa anche il calcio italiano il calo di vlaovic io non vorrei essere solo monico o troppo diplomatico è attribuibile a fattori che riguardano sia il giocatore che la squadra indubbiamente il vlaovic di adesso non è il vlaovic carico a mille delle prime partite e non vorrei che questo ragazzo si stesse un po rassegnando perché e qui vengo al secondo discorso il contesto non gli permette di essere quello che era nella fiorentina dobbiamo considerare che statisticamente è stato considerato che nella juventus ha una media gol che è la metà di quella che aveva nella squadra viola l'altro aspetto comunque continua a riguardare la squadra molto onestamente anche contro il venezia tranne l'avvio si è visto il non gioco a centrocampo se non fosse stato per un giovanissimo come miretti purtroppo si sarebbe predicato nel deserto e il venezia meritava molto di più questo non può e non deve succedere contro una squadra che è nei bassi fondi della classifica con tutto il rispetto naturalmente per la squadra veneta quindi dico che c'è un gioco che indubbiamente non a seconda le caratteristiche di vlaovic in modo particolare fin dal primo giorno per quanto riguarda i rifornimenti laterali sono troppo pochi rispetto a quando giocava nella fiorentina i cross e questo è un limite fisiologico della juventus di allegri a dibala è stato chiesto un autografo e dibala prima di entrare alla continassa per allenarsi credo prima e non dopo ma cambia veramente poco ha risposto con un sorriso con un dolce sorriso io non so che cosa possa significare certamente di possibilità che dibala va dall'inter ce ne sono molte e si sapeva anche nel momento in cui ha rotto il contratto contro la juventus che la juventus perdeva il giocatore di maggiore qualità e vedremo come sarà sostituito io credo che i tifosi della juventus si debbano rassegnare a questa ipotesi nel senso che esiste non è certo ancora al cento per cento però indubbiamente una persona intelligente che aveva scoperto dibala come marotta e che ora è all'inter sa quanto potrebbe essere producente per l'inter un duo argentino formato da lautaro e dibala due giocatori dotati tutte e due di grande forza esplosiva di grande elasticità nelle gambe di grande corsa con un dibala io glielo auguro per il resto della carriera che faccia quello che ha fatto poche volte nella juventus e cioè giochi più vicino alla porta avversaria perché in questo modo può essere anche un grande bomber